Alla fine si andrà a Roma, l'ultimo giudizio sulle elezioni provinciali di Isernia diventa un caso nazionale e toccherà ai giudici di Palazzo Spada pronunciarsi. È stato infatti presentato al Consiglio di Stato, come preannunciato dal Presidente Alfredo Ricci e dai candidati della vista respinta, il ricorso è un appello dagli avvocati Giacomo Papa e Stefano Scarano contro la provincia di Isernia e il suo ufficio elettorale. L'udienza si terrà martedì 14 dicembre alle 12. Lo scopo è quello di ottenere l'annullamento e l'integrale riforma della sentenza con cui il Tarmolisi ha respinto il ricorso proposto dai candidati del centrodestra. Nella memoria viene anche chiesto di differire il giorno delle elezioni per permettere lo svolgimento regolare di un minimo di campagna elettorale. Al centro della difensiva si legge nel ricorso il fatto che, come risulterebbe anche dalla ricevuta di presentazione rilasciata dalla segreteria dell'ufficio elettorale, alle 11.57 le operazioni erano già iniziate mediante la consegna del simbolo della lista, in triplice copia e nel formato richiesto. L'operazione di consegna sarebbe stata resa però laboriosa per cause non imputabili al presentatore della lista, il quale comunque rimaneva continuamente nel medesimo posto in cui era il momento della consegna del contrassegno, alle 11.57 e si concludeva alle 12.04 del medesimo giorno come attestato dalla ricevuta. Nuovo rinvio quindi e nuove speranze per un centrodestra politicamente autolesionista come quello molisano che solo tra tre giorni conoscerà l'esito dell'ennesima puntata dell'infinita telenovela della politica nostrana. Grazie.